Bene, dopo aver letto alcuni degli aspetti fondamentali della civiltà greca sul nostro libro, andiamo a vedere più approfonditamente, anche se brevemente, alcuni aspetti con delle immagini e andiamo a raccontare il mito di Ulisse. Ecco qua abbiamo un'immagine con la struttura della polis, la polis in genere, tutte le polis più o meno, erano suddivise in tre aree, in alto come abbiamo detto la acropoli, acros vuole dire alto, quindi acropoli è città alta, dove qua rappresentano tutti un po' uno schema simile all'acropoli di Atene, vedete ci sono le mura difensive e gli edifici religiosi, Quindi questo nell'acropoli di Atene è il tempio principale, il partenone dedicato ad Atena Parthenos, cioè Atena Fanciulla. Ma il partenone come lo vediamo oggi verrà costruito in epoca classica, di cui non abbiamo ancora parlato profonditamente, e nella fattispecie dopo le guerre persiane nell'età di Pericle, E' il grandissimo politico che governò Atene nel periodo più florido, ne parleremo successivamente. Comunque, insomma, acropoli, città alta con le mura dove i cittadini potevano quindi rifugiarsi in caso di pericolo, sede delle difese, del tesoro della città, quindi insomma una sorta di banca, e dei templi, gli edifici religiosi, Quindi gli aspetti più importanti della polis. E poi c'era la città bassa con la Gorà, la piazza, dove si teneva il mercato, si facevano le assemblee, ci si riuniva per decidere, prendere decisioni politiche, si facevano le altre attività sociali dei cittadini. E si chiamava Astu, e poi il contado, detto Cora, che era tutta l'area circostante, direttamente collegata con la città, dove vivevano gli agricoltori, i contadini e coloro che appunto lavoravano nelle terre al di fuori della città, ma nei pressi della stessa. Vediamo le funzioni dei principali edifici della polis, in particolare abbiamo già parlato del tempio, l'edificio religioso, potevano essere anche numerosi i templi, nella polis, e nelle festività si compivano lunghe processioni a piedi verso i templi delle varie divinità che si trovavano appunto sulla parte alta. Un'altra zona, l'abbiamo detto adesso, è la Gorà, fondamentale, di solito era circondata da degli edifici comporticati, così anche in caso di maltempo si poteva camminare in questa zona, c'era il mercato, ci si riparava dal sole, ad esempio il sole molto forte del Mediterraneo, e dicevo l'altro edificio molto importante nel mondo greco è il teatro. Abbiamo già visto insieme i passi di una tragedia, ecco proprio il teatro, come lo intendiamo, nasce in Grecia ed ha una funzione politica, civile e religiosa, cioè erano riti che servivano, le rappresentazioni teatrali erano considerate proprio dei riti a cui tutti dovevano assistere, veniva concesso l'ingresso gratuito anche ai poveri, perché servivano a rafforzare l'identità di cittadini e a unire appunto i cittadini nei valori fondanti della polis. E spesso in occasione delle principali festività religiose si tenevano anche degli agoni tragici, cioè delle gare di tragedie e delle rappresentazioni di commedie. Qua abbiamo uno schema più specifico proprio dell'acropoli di Atene, però vi dico c'è già indicato il Partenone che verrà costruito dopo e nella forma attuale ricostruito, perché i persiani lo vedremo nel capitolo successivo con le guerre persiane, invaderanno e distruggeranno Atene e quindi verrà ricostruito dopo che saranno sconfitti, e quindi però abbiamo proprio uno schema di un'acropoli attualmente ancora esistente e visitabile che come fonte storica ci conferma effettivamente, come anche le altre acropoli tuttora sopravvissute, anche se in rovina, ci conferma che erano cinte da mura e che comprendevano gli edifici più importanti dal punto di vista simbolico per la polis. Vedete qua c'è una mappa della Grecia con diverse polis, erano molti di più di quelle che sono qua indicate, che sono le più importanti, le più importanti come simboli in assoluto, anche politicamente a un certo punto della storia, sono Atene e Sparta, che hanno due diversi modelli di governo, proprio completamente opposti si può dire, e poi c'erano tantissime altre città che ritroviamo spesso citate nel mito e che avevano forme di governo e anche si ispiravano negli usi e costumi nella vita o più ad Atene o più a Sparta, questo anche a volte a seconda delle alleanze che stringevano tra loro. Tebe, per esempio, estremamente importante, Corinto, posizione strategica, qua su uno stretto, un passaggio di mare, Argo, ne abbiamo già parlato forse di lì, veniva Agamennone, forse era di Micene ma forse era di Argo, Delfi, dove si trovava il famosissimo oracolo, lì i greci si recavano quando volevano avere risposte sul futuro. Ecco, a proposito di Atene e Sparta, che sono le due principali città di cui poi parleremo, vi ho inserito alcune immagini, per quanto riguarda Sparta c'è la raffigurazione di un oplita, cioè un soldato, vedete l'oplos e lo scudo, spartano, perché Sparta basava la propria potenza sulle armi e aveva il culto della prestanza della forza fisica. Qui anche le donne si allenavano fin da giovani, esattamente come gli uomini, alla guerra, agli esercizi fisici, alla ginnastica, anche perché essendo madri avrebbero dovuto generare figli sani. E anche le donne, ovviamente sto parlando dei cittadini di Sparta, non dei popoli da loro sottomessi, che gli servivano, ecco, anche le donne partecipavano ai combattimenti. Quindi, in una città guerriera, dove la proprietà privata era quasi assente perché era tutto messo in comune e l'obiettivo principale era essere potenti in guerra, essere bravi con le armi, le donne avevano comunque più potere di quanto non ne avessero, ad esempio, nella democratica Atene. Per quanto riguarda Atene, vedremo poi l'Atene potentissima dell'età di Pericle, qua parliamo di un'Atene un po' più arcaica, e ho inserito quindi il busto di Solone, che è il più antico legislatore di Atene, fu arconte, quindi capo politico, e sul finire del VI secolo fece una riforma e scrisse una costituzione. Quindi vedete che in Grecia vengono posti i fondamenti, poi, dello Stato moderno, quindi leggi scritte, costituzione, partecipazione attiva alla vita politica dei cittadini, quindi la democrazia. Ecco, la Costituzione venne poi rinnovata più tardi da un altro legislatore, Clistene, che introdusse l'ostracismo. L'ostracismo, questa parola viene da ostraca, che indica il coccio, il pezzo di vaso, qua avevano messi alcuni scritti, sono dei pezzi di vaso, di argilla, su cui i cittadini in assemblea scrivevano dei nomi. Cosa succedeva? L'ostracismo consentiva di esiliare quei cittadini di cui il popolo avesse temuto l'ambizione. In sostanza, se qualcuno ad Atene diventava troppo ricco e potente, proprio per evitare che diventasse tiranno assoluto, quindi per mantenere la democrazia, si scriveva il suo nome, in segreto tutti scrivevano il nome di chi ritenevano troppo ricco, troppo potente, lo scrivevano sull'ostracon, cioè sul coccio, e poi si contava il numero dei voti ricevuti e chi ne aveva di più, invece di venire eletto come in una votazione, veniva mandato via dalla città, mandato in esilio. E qua c'è proprio un ostracon del V secolo ad Atene, quindi una fonte storica effettivamente che si aggiunge alle numerose fonti scritte su questa pratica.